Torna in campo il Pescara domani, fischio d'inizio ore 14, stadio dei Marmi di Carrara contro l'11 Toscano in casa. La Carrarese quattro vittorie e un pareggio contro il Pineto, ma lo stadio dei Marmi porta bene al Pescara. Due anni fa, prima stagione di Serie C con Auteri in panchina, successo per 2-1 dei Biancazzurri, gol decisivo di Memusciai. Poco più di un mese fa, sempre allo stadio dei Marmi, questa volta l'avversario del Sestri Levante, stesso risultato. 2-1 per il Pescara, la doppietta di De Marco. Attenzione però al meteo, previsto vento molto forte domani e il tecnico Zeman è stato chiaro in conferenza stampa. Mica possiamo mettere le pietre nel pallone, deciderà l'arbitro. Sulla formazione nessun indizio, se non che in difesa Pellacani e Di Pasquale non sono ancora al meglio, non sono ancora pronti e quindi probabile conferma per Brosco e Mesic. Squadra in partenza alla mia destra, il pullman del Pescara che si metterà in viaggio per il ritiro in terra toscana a Carrara. Ma ci andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli, passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Zeman. Ogni sconfitta fa male, fa arrabbiare, ma bisogna cercare le strade per migliorarsi. Come le squadre che non perdono mai non esistono, noi per ora avevamo questo periodo che, ripeto, le due partite perse non erano da perdere, però è sempre colpa nostra. Domani a Carrara è previsto vento forte e ci ricorda un po' quello che era successo a Messina con il vento forte. Ha pensato anche a questo aspetto nel preparare la partita di domani? Io mi preoccupo, ma non so se dobbiamo mettere le pietre nel palone, perché se il palone non si ferma è difficile giocare. Poi sono arbitri che decidono su quello che si può fare. Io volevo una sua chiave di lettura sulla soluzione che ha detto che dobbiamo cercare altre strade rispetto all'ultimo periodo dove la squadra non ha fatto quello che doveva. Quale può essere un'idea per riproporre il Pescara che piace a lei? Noi, le ultime quattro partite abbiamo giocato sotto ritmo. Anche domenica abbiamo giocato più di 700 paloni, che non è normale per una squadra che deve giocare calcio veloce, propositivo e aggressivo. E quindi giocando da ferme è difficile che si può fare in più, in più, non solo fase offensiva ma anche fase difensiva. La facilità con la quale la formazione di Pagliari una volta che recuperava palla, magari su errori vostri nella lettura dei passaggi, arrivava proprio facilmente dalle parti di Pizzari. Questa è causa dell'errore in fase di palleggio o c'è un errore in fase di non possesso? Non è causa perché la squadra ha voglia di andare avanti, poi ci va lenta e poi si perde la palla e a pedalare dietro non ci piace a nessuno. Ma voi dite che il leader è brosco, il problema è quello che siamo passivi, noi aspettiamo avversari che ci vengono e poi ci meravigliamo come mai che vengono. Ma se io non la vado a accorciare, non vado su a prendermi riferimento, è normale che poi loro ci hanno spazio di arrivare. Devo accorciare di più il brosco messico? Devo accorciare o andare in marcatura subito, anche quando attacchiamo. Se non partecipo all'attacco devo prendere un riferimento da marcare. Se sto staccato è normale che l'avversario che riparte poi ci ha spazio e poi ci ha anche tempo di aspettare i compagni che arrivano. La luce di quanto aveva detto poco fa su brosco e mesic che devono andare più alti ad aggredire è anche una critica, potrebbero anche uno dei due riposare domani? È una critica, l'hai capito bene, però non vuol dire che devono riposare perché può essere che parlandone da tre settimane prima o dopo impareranno. Quindi ce l'ha con entrambi diciamo, la critica è di reparto? Di reparto, ma anche i terzini non fanno quello che devono fare. Abbiamo preso gol su errore di Pierno. Di Pasquale attualmente non è quello che conoscevo io a Foggia. Foggia era giocatore importante, ha fatto bene, ora anche in allenamento non mi convince. In più come mancino e voi me lo mettete a posto di brosco, io con due mancini dietro non posso giocarlo.